Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video come risparmiare guardando film e serie tv gratis utilizzando le prove gratuite di Amazon in questo caso Amazon Prime Video vi lascio qui sotto il link per facilità comunque io utilizzo questo anche perché sinceramente ho dei libri da leggere mi faccio questi 30 giorni di serie tv e di film ma poi faccio altro, faccio palestra leggo qualcosa, vado in giro cerco di socializzare ecco non è che sto tutto il giorno attaccata al divano comunque come si fa? semplicissimo, si va al link che vi lascio qui sotto ci si registra per 30 giorni mi raccomando come dico sempre se non volete rinnovare l'abbonamento Amazon è bravissimo perché se dite no non lo voglio più è veramente no non lo voglio più però dovete ricordarvi con un timer di disdire l'abbonamento sul canale ho anche fatto un video dove spiego come togliere gli abbonamenti di Amazon quindi se ti interessa vai a vederlo per capire la procedura comunque ricordati semplicemente di disabilitare poi Amazon Prime Video se non lo usi più ecco niente questo è tutto quindi serie tv ci sono un sacco di serie tv di film e di documentari quindi tutto meraviglioso per 30 giorni gratis poi appunto ricordatevi se non vi interessa di portare avanti l'abbonamento di sdirlo questo è tutto spero di essere stata utile un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao